Eccomi finalmente. Ciao a tutti, io sono Ilaria, ho 17 anni e questo è il mio canale. Finalmente mi sono decisa a iniziare a fare video su YouTube. I miei video comprenderanno la bellezza in generale, i capelli, il trucco e la moda. Tengo a precisarvi, cioè tengo a dirvi che ho due testati di parrucchiera, uno come parrucchiera e uno come acconciatrice, perché ho fatto due corsi, uno base e uno avanzato. Permetto che non voglio insegnare nulla a nessuno. Ho deciso di iniziarli così per hobby, diciamo, perché mi va, perché mi piace, perché ho visto anche, ci sono molte ragazze che lo fanno, non lo so, volevo provare anch'io. Nulla, questa era la mia mini presentazione e nulla, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!